Dai Teo che ce la fai? Un po' ti faccio fare una figura del... Vai! Concentrati, tieni il fiato. Mi raccomando braccio deso, non puoi giarrla a terra. Come c'è i piedi? Deso, 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 più lungo. Non fai smorfi e due che non faccio più. Dai! Ma che sono stato io? Dai, ah Gerry, fammi concentrare. Braccio deso, non puoi giarrla a terra. No, e se lo la smette? Dai, ah Gerry. Già è difficile. Ma il bello è che solo pensi di provarci, è quella la cosa. Lui c'ha paura che ce la faccio davvero? Sì. Aspetta, aspetta, fammi riprovare, fammi riprovare. Aspetta, aspetta. Ha fatto l'urlo, ha fatto l'urlo. Si è rotto un po'. Vai, 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 faccio vedere. Stavolta ci riesci, secondo me, vai. Braccio deso però, non puoi giarrla a terra. E ora lo tengo il braccio deso. Eh sì, l'ha tenuto deso. Braccio deso, braccio a paura.